Ciao a tutti, benvenuti nel canale, in questo video voglio svelarvi le nuove sfide, schede, punti, introdotte in Fortnite con il recente aggiornamento. La prima sfida è questa, Gnam, eliminato un avversario con uno squalo bottino. Non è difficile alla fine, potete farla in qualsiasi modalità, eccetto Rissa Squadre. Tutto quello che dovete fare è, con una canna da pesca, prendere uno squalo bottino e uccidere un giocatore. Quindi, utilizzando lo squalo dovete praticamente eliminarlo. È più facile farlo sulla terraferma, l'ho constatato personalmente, un giocatore in acqua è difficile da eliminare, ma sulla terraferma riuscirete a ucciderlo con lo squalo bottino più facilmente. Dovete farlo una sola volta, per fortuna, quindi una volta che l'avete fatto, avete completato la sfida. Le ultime due sfide, invece, che non ho ancora fatto, sono quelle di trovare le monete d'oro e le monete blu. Le monete blu sono quelle a tempo, compaiono random nella mappa e avete poco tempo appunto per raccoglierle. Quelle d'oro, invece, potete reperirle dai boss. Una volta eliminati i boss, nel cavo trovate la moneta d'oro. Personalmente, ancora non sono riuscito a trovarla. Non so se già c'è in gioco, o se arriverà prossimamente, o se spona random, non so. Però, da quello che so, per certezza, è che queste due sfide sono appunto quelle legate alle monete. Quindi, due sfide per le monete e l'ultima per lo squalo bottino.